Nel quartiere Scampia, la Polizia di Stato di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distretto all'antimafia, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di cinque persone, quella degli arresti omiciliari nei confronti di due persone e quella dei divietoli di mora nel comune di Napoli nei confronti di una persona. Tutto è gravamente iniziato a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche gravata dal metodo mafioso e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare compendia gli esti di un'indagine condotta tra il 2021 e il 2022 con cui è stata documentata l'operatività di un sodalizio criminale che per conto del clan carbonistico degli Amato Pagano, noto anche come clan degli scissionisti, gestiva l'intera filiera del traffico e dello spaccio del dettaglio di vari tipi di stupefacenti nell'area conosciuta come i Sette Palazzi, tra via Tancredi Galimberti e via Antonio Labriola del quartiere di Scampia. L'organizzazione curava ogni aspetto delle illecite attività, dalla l'approvvigionamento dello stupefacente fino alla commercializzazione al dettaglio, che era gestita dai capi piazza organizzando la distribuzione per tipologia e per tuni di lavoro. Le indagini hanno consentito di documentare come il complesso di piazza e di spaccio dell'area dei Sette Palazzi fosse in grado di realizzare ingenti leciti profitti. Il provvedimento è seguito da una misura calcolare risposta in serie di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini come tali presunti innocenti fino a sentenza definitiva.